A giorni parte l'appalto dei lavori per l'allestimento museale del primo e secondo piano di Palazzo San Francesco a Domodossola. Saranno ricollocati i mobili, alcuni nuovi, altri storici restaurati e collezioni. Costo dell'intervento quasi 800 mila euro coperti con i fondi frontalieri. I due piani saranno pronti e visitabili entro i primi mesi del 2020. È dei giorni scorsi l'ultima delibera di giunta, quella che riguarda il progetto esecutivo che ricalca quasi totalmente il definitivo. Acquisiti tutti i pareri necessari della sovrintendenza. L'intervento procederà per lotti. Non sono previsti importanti lavori edili che sono invece già stati eseguiti. Le voci di spesa contemplano anche nuovi impianti elettrici ed illuminazione. Diverse le collezioni che verranno ricollocate ce le racconta il curatore Antonio D'Amico. Al primo piano troverà spazio il grande museo di scienza naturale con pezzi in deposito da oltre 30 anni. Finalmente verrà restituita alla cittadinanza la famosa pecora con due teste. Accanto a preziosi mobili d'epoca verranno posizionati a redi in vetro. L'ultimo piano vedrà un impianto a otto con la pinacoteca a Vigezzina nella parte centrale. Sarà esposto anche il fornara con 800 disegni dal rinascimento al 1900 in teche di vetro mai usciti dal deposito lungo il perimetro di destra e poi con la collezione di arte sacra, quadri e sculture e la sezione archeologica. Una parte di quest'ultima sarà restaurata a cura del comune. Verrà esposta anche la tomba di Claro Fuenno recuperata dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio di Torino ed affidata al nascente museo civico di Palazzo San Francesco. Questa sarà restaurata dal ministero. D'Amico precisa che il piano terra sarà invece sempre destinato a mostre temporanee di rilievo. Dall'assessorato comunale alla cultura evidenziati l'importanza del momento e la grande gioia per un allestimento che dopo anni di progetto diventa realtà. Annunciato un controllo stretto sui vari lotti per il rispetto delle tempistiche.